Il New Dada è un movimento artistico che riprende i temi e gli stili dataisti, è caratterizzato dall'uso dei materiali moderni, da soggetti dell'immaginario popolare e da contrasti assurdi, che inoltre lega apertamente i concetti tradizionali dell'estetica. Gli artisti New Dada sono protagonisti della nuova stagione della poetica dell'oggetto, assunto nella sua condizione di materia povera, quale recupero il montaggio di prodotti usurati e abbandonati dalla società che li ha sfruttati. I presupposti poetici di questo riscatto dell'oggetto costituiscono la principale differenza tra il New Dada e il Dadaismo, nel quale tuttavia può dirsi una continuazione scartulita dagli sviluppi stessi dell'avanguardia storica. Questa è un'espressione di una precisa condizione culturale americana. In New Dada, con il ricorso all'uso di oggetti e materiali estranei alla pittura, si inserì con peso determinante nel processo di esaurimento dell'arte informale ed anche di quella astratta, ponendosi con le esperienze più mature all'origine della poetica della pop art. Agli inizi degli anni sessanta, mentre l'America va diffondendosi in New Dada, in Europa prende forza il suo corrispettivo movimento artistico denominato e conosciuto con il nome di Nouveau Realisme. I rappresentanti sono Armand, César, Daniel Spuerri e Mimo Rotella. Questi artisti amano introdurre nelle loro opere d'arte oggetti usati e consulti, oggetti di scarto come lattine, scatolette di alimenti, ritagli di indumenti, piatti rotti e tutto ciò che è sotto i nostri orchi nella vita quotidiana. Con questa insolita azione, l'artista provoca l'effetto di dissemblage e l'oggetto radicalmente modificato non è soltanto trasfigurato nell'opera, ma anche sottoposto all'azione devastatrice, proprio come fa la società che distruggeva i loro rimorali. Un oggetto impetuosamente compresso ad esempio sta a significare la volontà del sistema di comprimere la libertà delle singole persone. L'oggetto, portato poi al suo contesto naturale, viene nobilitato dall'arte datraista di Duchamp, con la stessa eleganza e dignità propria di un'opera d'arte. Con il Nouveau Realisme diventa nella sua oggettività un elemento comune di consumo, di scarto, scomodo e degradante, cioè un materiale da buttare via. Jasper Jones è uno dei pittori americani più importanti ed influenti del XX secolo. Nasce il 15 maggio del 1930 in Georgia ed è tuttora vivente. Dotato di uno spirito artistico, inizia a disegnare già da bambino e già all'età di cinque anni diceva di voler diventare un pittore. I suoi insegnanti d'arte gli consigliano di trasferirsi a New York, cosa che fece alla fine del 1948, anche per fuggire alla difficile situazione familiare. Jasper Jones frequenta la Personal School of Design per un semestre prima di arrivarsi all'esercito durante la guerra di Corea. Tornata a New York nel 1953 e nel 1954 inizia a lavorare in una libreria dove stringe amicizia con il pittore e fotografo Robert Rauschenberg, che ha cinque anni più di lui e con il quale stringe una relazione sentimentale. Jones è una personalità cruciale degli anni 50 perché insieme a Rauschenberg funge dall'elemento di unione, di continuità, fa il movimento degli udata americano e la sua derivazione europea. L'opera di Jones rappresenta una posizione di sintesi tra due culture profondamente diverse, che in quel periodo più che mai scoprirono molteplici punti di contatto. Il tratto distintivo dell'opera di Jones, che caratterizza nel modo più marcato tutta la sua opera, è l'abbandono del significato che normalmente si comprisce agli oggetti. Jasper Jones assume un atteggiamento in un certo senso tradizionalista, che costituisce il tratto distintivo che non differenzia la pop art, la quale ricicla in una pittura volutamente affredda e impersonale le immagini proposte dai mass media. Gli manca inoltre la carica ironica e distancatoria tipica dei Vada, dove l'oggetto acquisisce il carattere di un feticcio inerte, di un simbolo stereotipato. Jones ha sempre mostrato un interesse intellettuale per l'oggetto in sé. Jasper Jones ha utilizzato come immagine di elezione la bandiera americana. In questo caso in versione seriattamente materica, in tutta una serie di pints realizzati attorno alla metà degli anni cinquanta, presentandole il familiare aspetto e veduta totalmente frontale, cosicché per chiedersi, guardando questi quadri, quale sia la differenza tra la bandiera reale e questo simulacro dipinto di venuto arte. Nel suo sperimentalismo, Jones ricorse a una tecnica praticata già da molto tempo, risalente addirittura all'antico Egitto. La pittura ha incausto, ovvero la cera calda mescolata con il colore. Ovviamente a questa tecnica aggiunse del suo. La bandiera infatti è dipinta su carta di vecchi giornali applicata a tre pannelli di legno assemblati. Se si guarda il quadro da vicino si possono persino scorgere i testi delle vecchie pagine. Il pittore voleva riprodurre qualcosa che fosse ben presente a tutti. Think that mind already know. Per concentrarsi piuttosto sulla realizzazione stessa, ecco allora apparire ai nostri occhi un quadro che per colori, dimensioni e forma rinvia spontaneamente a una bandiera degli Stati Uniti d'America, ma che per natura rimane pur sempre un quadro, senza bisogno che qualcuno ci ricordi alla bandiera di Magritte e alla sua tipa surrealista. L'artista calabrese nato con il nome di Domenico Rotella è considerato uno dei protagonisti della scena artistica della seconda metà del ventesimo secolo. La sua figura è legata al movimento del nouveau realisme e della pop art internazionale. Di Rotella non esiste una singola opera particolarmente significativa, diventò famoso per essersi inventato durante gli anni cinquanta una forma d'arte che lui stesso chiamò decollage. Rotella, mentre attraversava un periodo di crisi artistica, si fece spiegare dai manifesti trappati per la città di Catanzaro e iniziò a portarli nel suo studio e a lavorarli. I risultati sono delle tele su cui Rotella incollava uno o più pezzi di manifesti elagerati, spesso sovrapposti. Rotella voleva in qualche modo trovare qualche forma di innovazione artistica, visto che secondo lui tutto ormai era stato detto e fatto, e allo stesso tempo dare dignità artistica a un oggetto comune e di scarso valore, tolto dal suo contesto naturale. Le sue opere furono esposte per la prima volta nel 1955 all'esposizione d'arte attuale a Roma. Fino al 1964 Rotella si dedicò quasi esclusivamente ai manifesti elagerati, raccogliendo un discreto successo e facendo dividere la critica. I retrattori lo chiamarono con sufficienza definendolo strappamanifesti. Ebbe una passione particolare per l'attrice americana Marilyn Monroe, che lui chiamava Madeleine a causa del suo forte al centro calabrese. Da qui si evince anche la forte influenza che Andy Warhol ebbe sulla sua carriera. La vita non è un film ma questo non vale per Mimo Rotella, che tornato da Kansas City, dove era stato per una bossa di studio, gira per Roma vestendo e parlando come un americano e lui a ispirare lo straordinario personaggio di Alberto Soldi e un americano a Roma. Tra un manifesto strappato e un'opera di Rotella c'è una grande differenza. Lo sguardo, lo sguardo dell'artista è quello che può trasformare un poster lacerato in un simbolo dell'arte. Dalla strada all'arte, d'altronde, è lo stesso percorso che seguì Marilyn Monroe, all'anagrafe Norman J. Beck Mortensen. La diva si trascinò per tutta la vita, la donna e le sue origini, quella maltrattata nell'infanzia e quella dei matrimoni falliti e gli aborti spontanei. Poi sullo schermo la sua immagine era perfetta, sexy, bellissima, una vera e protè icona. A lei Rotella dedica molto delle sue opere. Le labbra carnose, il sorriso maleante, lo sguardo seducente, rivivono sui suoi decollage. E se Marilyn era, tra i miti dell'epoca, quello più popolare e simbolico, icona universale di bellezza, nessuno la vive come Rotella, immagine potente da celebrare e da consegnare alla storia dell'arte. La collezione di Rotella, serie decollage, consiste in una raccolta di 50 decollage multipli, basati sulle lucantine dei film classici e sulla figura di Marilyn. Un serie decollage è realizzato partendo da un poster usato come base di supporto. Su questi poster viene sovrapposto un altro poster che l'artista strappa a mano. Quindi, anche se i decollage sono multipli e se di ogni soggetto esistono addirittura 125 esemplari, sono tutti trattati come opere uniche grazie all'intervento manuale di Mimo Rotella. Infatti le strappe realizzate a mano, seppur simili tra di loro, non potranno mai essere perfettamente uguali. Questo rende tutte le opere uniche. In questa slide possiamo vedere soltanto alcuni esempi della immensa produzione di Mimo Rotella come tema Marilyn. Marilyn Monroe, nata Norman Jane Beckham Mortensen, è stata un'attrice, cantante, modella e produttrice cinematografica a fatture utenze. Nel 1999 la Monroe è stata inserita dall'American Film Institute a senso posto nella lista delle più grandi star femminili di tutti i tempi. Per il suo fashion e per la sua sensualità venne inoltre ritratta in numerose foto di pubblicità e di riviste, diventando un simbolo fuori da ogni tempo. Negli anni e decenni successivi alla sua morte, la Monroe è stata spesso citata come vera e propria icona della cultura pop. Le circostanze della sua prematura morte, a solo i 36 anni, dovute a un'overdose di barbiturici, sono state oggetto di numerose congetture, sebbene il suo decesso sia ufficialmente classificato come probabile suicidio. La successiva sparizione di tracci e documenti della casa e dell'attrice, dove sembra fosse stato anche John Fitzgerald Kennedy, la sera della morte, nonché in numerevole omissioni e varie incongruenze nelle dichiarazioni dei testimoni e nel referto autottico, hanno dato molteplici dubbi sugli eventi di quella notte. Tra le varie versioni formulate, una ipotizza la complicità del Kennedy, che vedevano nella Star una minaccia, considerato che, secondo questa ipotesi, l'attrice era pronta a dichiarare pubblicamente la relazione con il Presidente degli Stati Uniti, una vera e propria minaccia per la carriera politica del Presidente. Questa è una frase celebre di Marilyn, che mostra tutta la sua personalità. Dicono che il denaro non faccia la felicità, ma se devo piangere, preferisco farlo sul sedile posteriore di una Roll Royce, piuttosto che su quelli di un vagone del metro. In questa foto, invece, vediamo Mimo Rotella, vicino a uno dei suoi tanti recollage con il tema centrale di Marilyn. Questi, invece, altri esempi legati alla produzione artistica del maestro Calabrese, che riprende manifesti famosissimi di pelliccole cinematografiche, come sa Casablanca e anche, attualmente, ricorre a manifesti pubblicitari del circo. Piero Manzoni è stato pioniere dell'arte povera e dell'arte concettuale. Nasce il 13 luglio del 33 a Soncino, in provincia di Cremona, da una nobile famiglia e muore all'età di solo 29 anni a Milano, il 6 febbraio del 1963, stroncato dall'attacco di cuore. L'opera di Piero Manzoni diviene un punto di riferimento per la generazione di giovani artisti italiani riuniti dal critico Germano Cerand e la prima mostra di arte povera, che si tenne nel 1967. Il suo lavoro è ampiamente visto come una critica della produzione di massa e del consumismo che ha cambiato la società italiana, il famoso miracolo economico dopo la seconda guerra mondiale. L'atteggiamento emotivo che caratterizza la produzione di Piero Manzoni è quello di criticare la figura dell'artista, in quanto, secondo lui, è sopravvalutato dal pubblico. Attraverso l'arte vuole esprimere la parte più intima dell'autore, prendendosi il gioco di lui e contrastare così il mito dell'opera che, invece, vive grazie al correzionista. L'arte di Piero Manzoni non ebbe una lunga durata, ma ai suoi posteri insegnò molto attraverso la pittura, gli scritti e le performance. Come tutti gli artisti, o quasi, ha saputo rappresentare in modo originale la realtà del suo tempo, osservandolo con orchi diversi e scotendo gli animi del suo pubblico verso la curiosità e la creatività a volte eccessiva. Avanti dei viaggi, in particolare tra Valinarca, dove pianificò diversi dei suoi lavori, Piero Manzoni sarà sempre ricordato per l'opera per Antonomasia, Merda d'artista, una scatola dal diametro di 5 x 6 cm e mezzo, in cui il vero contenuto ha creato grandi dibattiti e discussioni. Molti lavori di Piero Manzoni esigono il nascondismo dell'opera d'arte. È il caso delle linee, realizzate in esemplari di diversa lunghezza, da 1,76 m fino addirittura a oltre 7 km, realizzate tra il 1959 e il 1961. L'opera consiste in una singola linea tracciata su un foglio di carta, arrotolato e posta all'interno di un cilindro di cartone etichettato. Nell'intenzione dell'autore, il contenitore sigillato non si sarebbe mai dovuto aprire. L'opera d'arte rimane così sottratta allo sguardo dello spettatore e dell'acquirente, chiusa nell'astuccio e metaforicamente chiusa in se stessa. L'esistenza della linea, evocata soltanto dall'intervento dell'artista che ha firmato l'etichetta, garantendo così la lunghezza, il mese e l'anno della realizzazione, può essere visualizzata dal pubblico solo attraverso uno sguardo interiore, quindi mentale. La spalizione dell'opera d'arte è esibita in modo palese nella linea di lunghezza infinita. Il contenitore, un cilindro di legno senza apertura, racchiude realmente una linea che esiste sola come puro concetto. Manzoni produsse 90 scatolette numerate e firmate, imponendo un prezzo di vendita, con una valutazione appeso moltiplicata per il prezzo dell'oro, questo strettamente connesso con l'operazione concettuale che stava compiendo. A livello di curiosità si può aggiungere che le dichiarazioni di etichette indicanti in contenuto potrebbero non corrispondere alla latura della mattina scatolata. Vona Lumi, un amico di Manzoni, dichiarò al Corriere della Sera l'11 giugno del 2007, posso tranquillamente asserire che si tratta di solo gesso. Qualcuno vuole constatarlo? Faccio pure, non sarò certo io a rompere le scatole. Secondo altre fonti sommesse, che forse contano meglio nel segno, forse Piero Manzoni si era soltanto limitato ad acquistare una partita di scatolette di cibo lunga conservazione, senza pertanto procedere a nessun scatolamento, che in effetti sarebbe stato inutile. Se avrebbe bastato infatti rimuovere l'etichetta originale e sostituirla con un'altra. Un'operazione concettualmente perfetta e senza molto impegno. In questo caso le scatolette conterebbero quindi semplicemente cibo ampiamente scavuto. In questa slide si può evincere il risultato incredibile ottenuto dall'artista. infatti una scatoletta di merda d'artista di Piero Manzoni è stata venduta alla cifra d'accordo di 275 mila euro. Quindi un grammo di merda quasi 10 mila euro. E questa è la sintesi brutale della notizia che arriva da Milano. dove appunto una delle celebre scatolette di merda d'artista di 30 grammi, la numero 69, fu venduta per questa somma incredibile. Dalla casa d'aste il ponte a Milano. Ve l'è stabilito un bene e proprio record mondiale per questa particolarissima opera, ma resta sempre un'icona dell'avanguardia del ventesimo secolo.